Un San Valentino diverso quello che volete proporre? Sì, un San Valentino diverso, oggi è 14 febbraio quindi abbiamo pensato di quale giorno migliore per inaugurare il vicolo degli innamorati per continuare il nostro percorso dell'associazione che sta continuando da anni, appunto di adottare dei vicoli nel centro storico per abbellire, valorizzare il nostro patrimonio storico perché bisogna partire appunto dalla storia della nostra città e dare dignità a una parte della nostra città, appunto il centro storico che purtroppo è perduta e quindi cerchiamo in questo modo con queste varie iniziative di sensibilizzare sia i residenti del centro storico ad unirsi a queste iniziative, alla tutela del centro storico che anche le amministrazioni che molto spesso sono negligenti e distratte alle problematiche del centro storico. Ci sono degli sponsor per queste iniziative? Sì, sì, quest'anno abbiamo una bellissima targa, il vicolo degli innamorati, collocata qui in via Pitagora che ci è stata donata dalla ditta Metal Crepanteria di Sergio Torromino con l'aiuto del signor Francesco Orlando e naturalmente i giovani dell'associazione di Crotone in Fiore. I giovani che cosa hanno realizzato? I giovani hanno realizzato questo bellissimo quadro, i cuoricini, ecco noi cerchiamo di tutelare e di valorizzare il centro storico alla maniera nostra, cioè in modo semplice perché basta poco per abbellire il centro storico che già di per sé è bello e con le sue viuzze, con il suo patrimonio, con la sua storia, con le sue case già si presenta da solo. Quindi è un modo per dire noi ci siamo, il centro storico c'è, bisogna partire da qui, invogliare gli imprenditori a investire nel centro storico che ha una vocazione socio-economica e anche molte potenzialità turistiche per il nostro territorio e per la nostra città. Allora questa iniziativa è un'iniziativa per abbellire il centro storico e per dire anche a noi crotonesi che questo centro storico dobbiamo apprezzarlo. Sì, il nostro centro storico è ricco di storia e ogni palazzo, ogni arco ricorda veramente un episodio, una vicenda, le mura, le pietre, dove stiamo, ogni angolo racconta una storia dei nostri avi, però questa associazione con le sue opere cerca di valorizzare ogni volta degli angolini forse un po' anonomi, ma non per questo meno importanti. Testimonianza ne è questo vicoletto piccolo, neanche senza la targa, senza la via, dove questa associazione ha voluto valorizzarlo per dare il segno che dove cadono gli occhi con tanto amore si possono portare dei bei progressi in questo luogo. Educare, formare i giovani ha un amore sempre più grande per la propria città. Questo è fondamentale, tanto più che da insegnante posso dire che c'è un ruolo fondamentale di trasportare l'amore per gli ambienti dove si vive, poi a prescindere se ci appartengono o non, apprezzare e valorizzare gli ambienti dove stiamo.